Quesito 3, simulazione MIUR 12 gennaio 2017 Sulle onde elettromagnetiche Un laser che ha questa lunghezza d'onda, quindi un laser verde Stiamo infatti intorno ai 500 nanometri Potenza di 1 Watt e sezione cilindrica circolare di 2 mm² Fascio cilindrico Prima domanda, quanta energia è contenuta in un metro di lunghezza di questo fascio? Questo è il fascio cilindrico Che viaggia alla velocità della luce nel vuoto C, questa è la superficie di incidenza 2 mm², la lunghezza è un tratto lungo un metro E all'interno di questo cilindro pieno di radiazione elettromagnetica C'è una quantità di energia elettromagnetica U Che è concentrata con una certa concentrazione Quindi una certa densità spaziale di energia U minuscolo Ricordiamo le formule principali che sono tutte incorniciate Innanzitutto la relazione tra lunghezza d'onda e frequenza Da qui possiamo ricavare subito la frequenza che ci servirà più avanti E otteniamo alcune centinaia di terahertz Giustamente sappiamo che centinaia di terahertz è la frequenza della luce visibile Qui è un laser verde Inoltre sappiamo anche che il campo elettrico e il campo induzione magnetica Qui ho disegnato solo il campo elettrico Ma per il campo induzione magnetica valgono le stesse considerazioni Questi campi elettrico e magnetico variano molto rapidamente nel tempo Infatti abbiamo detto che il periodo di oscillazione è estremamente breve La frequenza è centinaia di terahertz Quindi non ha senso considerare i valori istantanei che sono oscillanti Ma si può tranquillamente approssimare L'oscillazione del campo elettromagnetico Come se fosse un valore costante Un valore efficace Quindi un campo elettrico Non più considerato oscillante Con ampiezza E0 Ma considerato come costante Di valore efficace Uguale a E0 su radice di 2 Cioè l'ampiezza massima L'oscillazione massima è 0 diviso radice di 2 Al quadrato Il valore quadrato del campo elettrico efficace È metà della massima ampiezza di oscillazione al quadrato E0 quadrato mezzi Questo disegno significa che il campo elettrico invece di oscillare Lo possiamo immaginare costante A un valore che è circa 0,7 0,71 Del valore massimo è 0 Quest'altro disegno invece significa Che quando andiamo a fare il quadrato del campo elettrico Otteniamo questo grafico di colore rosso E possiamo immaginare che non sia oscillante Ma sia un quadrato costante Quindi un valore costante Pari a metà dell'ampiezza massima Di questo quadrato Quindi è 0 quadrato mezzi E le stesse cose valgono per il campo bi-induzione magnetica Noi conosciamo la potenza che viene depositata su 2 mm quadrati di superficie P' E se dividiamo per questa superficie Abbiamo l'intensità luminosa Che viene in questo caso piuttosto grande Sono mezzo megawatt al metro quadrato L'intensità luminosa naturalmente è un valore medio Per quello che abbiamo detto prima E anche la potenza che viene depositata sulla superficie a sé primo È un valore medio Sono tutti valori medi Sappiamo che l'intensità luminosa è legata Alla densità spaziale di energia Valore medio anche questo Attraverso la velocità della luce nel vuoto C per U E sappiamo anche che questa densità media di energia È la somma della densità spaziale Dell'energia elettrica e dell'energia magnetica E che questi due valori sono uguali Assumono lo stesso valore Queste due energie Perché l'energia radiante si distribuisce In parti identiche Quindi al 50% nel campo elettrico E al 50% nel campo induzione magnetica Qui abbiamo le formule Della densità spaziale di energia Nel campo elettrico e nel campo magnetico Naturalmente ci vanno i valori efficaci Perché abbiamo detto che consideriamo i campi Elettrico e magnetico Non più come campi oscillanti Ma come campi costanti Con un valore costante Che è il valore efficace E il quadrato di questo valore efficace Sappiamo che è metà del quadrato Dell'ampiezza massima Quindi possiamo esprimere Le due densità di energia elettrica e magnetica Con queste due formule E quindi otteniamo queste Che però non ci serviranno in questo esercizio Ci servirà invece quest'altra In cui calcoliamo la densità di energia Radiante Raddoppiando quella del solo campo elettrico Tanto quella del campo magnetico È uguale Assume lo stesso valore Potevamo fare la stessa cosa Anche raddoppiando L'energia del campo magnetico Densità di energia Lavoriamo comunque sul campo elettrico E quindi due volte Per questo valore qua Che è questo Otteniamo quindi questa formula Se lo facevamo con la densità di energia Del campo induzione magnetico Ottenevamo quest'altra formula Che è analoga Dopo aver ripassato tutte queste formule Andiamo a vedere Qual era la domanda del quesito La prima domanda era L'energia contenuta In un metro di lunghezza del fascio Siccome conosciamo il volume Di questo tratto di fascio Quindi è un cilindro Ci basta conoscere La densità spaziale di energia Quindi la formula che ci serve È una di quelle Che contiene La densità spaziale media di energia Che poi noi andremo a moltiplicare Per il volume di questo cilindro Quindi area di base per lunghezza Vediamo come calcolare Questa densità spaziale media di energia Non possiamo utilizzare queste Perché non conosciamo L'ampiezza di oscillazione Del campo elettrico E del campo magnetico Però possiamo utilizzare questa qua Infatti Noi conosciamo la potenza Trasportata dal laser P' Potenza media Conosciamo la sezione Del fascio laser E quindi prima abbiamo calcolato L'intensità media Di questo fascio laser E allora con questa formula Adesso possiamo calcolare La densità media di energia Quindi facciamo la formula inversa Andiamo a sostituire i valori In mezzo megawatt al metro quadrato Diviso la velocità della luce E troviamo questa densità spaziale Di energia radiante L'unità di misura Watt Per secondo diviso metro cubo Ma watt è joule al secondo Quindi watt è secondo Fa joule Diviso metro cubo Densità spaziale Di energia radiante L'andiamo a sostituire Nella formula che dicevamo prima Insieme al volume Di questo tubo cilindrico E otteniamo così Tutta l'energia Che è distribuita qua dentro Tutta questa energia È 3,3 Periodico Nano joule Vediamo che forse Il valore ottenuto Non è poi così grande Cioè sono nano joule Non è una quantità di energia enorme Però è molto grande Invece la densità Spaziale di energia Infatti Concentrare un millijoule In un metro cubo È una buona densità Spaziale di energia Abbiamo quindi Risposto alla prima domanda Quanta energia è contenuta In questo fascio laser Lungo un metro Ora la seconda domanda Il valore massimo Il campo elettrico E quello magnetico Sarebbero Le ampiezze di oscillazione E0 e B0 Dunque basta invertire Queste formule E ricavare E0 in funzione Della densità spaziale Di energia Che già conosciamo E che abbiamo appena Calcolato poco fa Quindi facciamo Questa formula inversa Andiamo a sostituire I valori E otteniamo subito Il valore Dell'ampiezza Del campo elettrico Valore piuttosto grande Siamo all'ordine 10 alla quinta Newton su Coulomb Vediamo come viene fuori L'unità di misura Joule Newton Fratto Metro Che sopravvive Dopo la semplificazione Per Coulomb Quadrato Joule Newton Metro Il metro Si semplifica E rimane Newton su Coulomb Quadrato Quindi Newton Quadrato Diviso Coulomb Quadrato Newton su Coulomb Per calcolare L'ampiezza Di oscillazione Del campo B Quindi B0 Si può invertire Questa formula Ma è più semplice Se noi ricordiamo Questa relazione Che è sempre vera Per le onde elettromagnetiche Non in generale Ma per le onde elettromagnetiche Lo è E quindi Invertendo questa formula Possiamo ricavare L'oscillazione massima Del campo magnetico Induzione magnetica Attraverso quella Appena calcolata Cioè questa qui Del campo elettrico Andiamo quindi Andiamo a sostituire I valori E troviamo Questo valore qua Che viene espresso In Tesla Infatti Newton su Coulomb Poi moltiplico Per l'inverso Di quest'altra frazione Quindi Secondi su metri Ma Coulomb Al secondo È Ampere E quindi Newton su Ampere Metro Fa Tesla E così abbiamo Risposto anche Alla seconda domanda Quindi la massima Ampiezza L'ampiezza di oscillazione Del campo elettrico E l'ampiezza di oscillazione Del campo induzione magnetica L'ultima domanda È quanti fotoni Al secondo Vengono emessi dal laser Sappiamo che il laser Emette una potenza Di un watt Questo vuol dire Che ogni secondo Emette un joule Di energia Quanta energia Al secondo Un joule al secondo Possiamo anche Ricavarlo Anche se in questo caso È banale La quantità Di energia Emessa In un intervallo Di tempo Delta t È pi primo Per delta t E quindi È un joule Quindi questo laser Emette una quantità Di elettroni N Di fotoni Di fotoni N Ciascuno dei quali Ha una energia Ciascun fotone Hni Allora Tutti questi N fotoni Ciascuno di energia Hni Tutti insieme Devono fare Un joule di energia Ogni secondo Quindi per sapere Il numero di fotoni Emessi al secondo Basta dividere Il joule Di energia Che viene emesso Ogni secondo Diviso L'energia Di ciascun fotone Singolo Hni Hni Me la calcolo Qua Costante di Planck Per la frequenza Che abbiamo calcolato Prima La frequenza Del laser Verde E troviamo Che ogni fotone Ha questa energia Allora Dividendo Il joule Di energia Complessiva Diviso L'energia Di ciascun fotone Troviamo Circa 2,6 Per 10 Alle 18 Fotoni Emessi Ogni secondo Abbiamo così Risposto Anche all'ultima Domanda Del quesito Ciao